Un mini metraggio di 30 secondi per pubblicizzare il call center Alzheimer con sede regionale a Campi Salentina e quello con cui l'agenzia brindisina Sandel Communication, primeggiando su 772 progetti, si è giudicata la sezione dedicata ai professionisti di settore del premio Media Stars per l'Art Direction, il riconoscimento tecnico per la pubblicità italiana vinto dalla campagna istituzionale del Consorzio San Raffaele che in Puglia gestisce 11 RSA con annessi nuclei Alzheimer. Giunto alla sua 17esima edizione il premio è stato consegnato a Milano a Tiziana Balsamo, direttore della comunicazione del Consorzio e a Vito Valente, direttore dell'agenzia Sandel. Gli obiettivi erano due, raccontare in soli 30 secondi la malattia di Alzheimer attraverso la rappresentazione artistica di uno dei sintomi caratterizzanti della malattia stessa, ossia la perdita progressiva della memoria e di informare capillarmente i cittadini pugliesi e tutti gli utenti dell'esistenza di un servizio unico nel suo genere, ossia il call center Alzheimer. Nello spot per la regia di Dario di Viesto il dramma dell'evoluzione della malattia, la perdita della memoria con la quale si va e viene dal passato, dimenticando il presente. Una bambina che poi diventa adolescente per poi diventare adulta, insomma più o meno corrisponde poi ai sintomi che questa malattia provoca. Completamente gratuito, il numero verde è in grado di fornire la consulenza di un'equip multispecialistica per soddisfare ogni tipo di domanda, da come riconoscere i primi sintomi a percorsi di assistenza possibili a livello regionale.